Due donne sono state arrestate questa mattina all'aeroporto della Malpensa scoperte con 16 chili di cocaina nascosti all'interno delle valigie. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane grazie al cane antidroga Lucas. Le due donne, una dominicana di 49 anni e una cubana di 33 provenienti dalla Repubblica Dominicana e arrivate a Malpensa con un volo via Madrid, sono state fermate mentre stavano uscendo dalla sala degli arrivi. Ad individuarle e a mettere sulle loro tracce gli uomini delle fiamme gialle è stato il cane antidroga già protagonista di altri arresti simili. La cocaina era nascosta nelle aste telescopiche di tre trolley. Per le due donne sono scattate le manette. Ora si trovano all'interno del carcere di Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria.